Musica Ti piace Sofì? Uhuh È la ragazza di Giuliano Ecco dove l'ho vista L'ho vista con lui in una produzione È carina, vero? Sì, molto Anche tu le piaci Davvero? Sì, molto In che senso le piaci, scusa? Ma ha detto che le piaci molto È un po' strana la ragazza, eh? Strana Mi guardava in un modo Ma credi che sia... Mi sa Davvero? Non me la conta giusta la ragazza Non me la conta giusta Piccoli Equivoci è una commedia esilarante Divertentissima Che prende spunto da problemi esistenziali di piccoli uomini Nel senso che ragazzi che superano la fase post-adolescenziale Che arrivano sulla soglia di 30-35 anni In una società che non gli dà sicurezza nella vita pubblica E loro riversano tutte queste insicurezze nella vita privata E nascono tutti i problemi Questioni di gelosie, di amori, di insicurezze Non so, dove vi siete conosciuti? In un gabinetto In un gabinetto? In treno Avete fatto l'amore in treno? Eh? Stupendo! Eh? Ed è stato eccitante? No No Io interpreto Paolo Che è un paranoico, nevrotico, ipocondriaco E chi più ne ha più ne metta Non ce la faccio Francesca Ti prego Paolo Mi sembra di impazzire Paolo ti prego E che E che tu Sì Tu hai Sì La lingua grossa Paolo con le donne ha un rapporto molto problematico Che somatizza tutte le insicurezze nei confronti degli altri Fondamentalmente lui non è capace a gestire i rapporti E' un aspettavo da vedere È un spettavo da vedere